Una proposta con l'intento di istituire un'unica zona economica speciale per l'intero Sud Italia. La proposta è stata presentata da Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il quale ha incontrato a Bruxelles la responsabile della concorrenza Margaret Weistanger. Il Ministro, in una nota, indica «ha colto positivamente la nostra proposta sulla ZEN superando le attuali otto zone economiche speciali già previste e istituite per rafforzare il sistema e sostenere la crescita del mezzogiorno». Destinatari delle misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di approvazione e autorizzazione, le imprese per lo ZEN sono l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata, il Molise, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. «Lo sviluppo dell'economia del mezzogiorno è una priorità del Governo. Siamo però convinti che questo obiettivo debba essere raggiunto abbandonando la logica assistenziale che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita e rendendo queste aree del Paese competitive e attrattive», dichiara così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentato positivamente la luce verde della Commissione Europea alla creazione di una ZES unica per le regioni del Sud.